Franco Battaggia, il 77enne accusato di aver ucciso Anica Panfile e di aver gettato il corpo nel canale della Vittoria, resterà in carcere. Il Tribunale del Riesame ha infatti respinto il ricorso presentato dalle due legali dell'imprenditore veneziano contro l'ordinanza di custodia cautelare. Per le motivazioni bisognerà però attendere i prossimi giorni. Il corpo della mamma 31enne di origine rumenera è stato trovato in un'ansa del piave lo scorso 21 maggio. La morte era venuta qualche giorno prima. L'ultimo a vedere Anica Panfile viva era stato proprio il 77enne che dopo averla presa dal lavoro l'aveva portata nella sua casa di Arcade. Da quel momento della donna non si era più saputo nulla fino al ritrovamento del corpo. Dunque le prove indiziarie a carico di battaggia hanno superato il Riesame. L'uomo non sarà scracerato, rimarrà a Santa Bona. L'esame autoptico sul corpo della mamma 31enne aveva riscontrato una notevole quantità di cocaina, poi il colpo alla testa e il soffocamento. Gli accertamenti compiuti dai carabinieri del Ries di Parma avevano evidenziato una macchina in un tappeto di battaggia con il quale, secondo gli inquirenti, potrebbe aver trasportato il corpo di Anica fino al canale. Non solo ma da gravare la posizione del 77enne e le riprese delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il pick-up di battaggia a passare più volte nel luogo dove poi sarebbe stato abbandonato il cadavere. Un quadro indiziario insomma che ha tenuto. Fra l'altro uno dei motivi che ha fatto scattare l'arresto del 77enne era il pericolo di fuga. L'uomo che già in passato era stato latitante per anni e aveva confidato ad un conoscente l'intenzione di andare via. Non solo ma per gli inquirenti ci sarebbe anche il pericolo della reiterazione del reato. Un delitto di impeto che ha aperto per lui le porte del carcere e che per ora rimarranno chiuse.